Un totale di circa 100 iscritti che spaziano dalla categoria piccoli amici a quella degli allievi. Questi i numeri della scuola calcio dell'ASD Valfino che con passione negli anni è riuscita a raggruppare i giovani calciatori provenienti dall'intera vallata del Fino. Infatti ogni giorno nel rinnovato impianto dello stadio comunale romano, oltre che da Castiglione Messerra e Mondo, giungono ragazzi addirittura da Picciano e Arsita. È una mission quasi impossible, però grazie all'aiuto degli sponsor e del nostro presidente Astolfigenaro riusciamo a garantire un servizio che ormai sono 20 anni che si pratica in vallata. Abbiamo personale qualificato, poi le metodologie possono cambiare di campo in campo, ma l'importante è garantire al ragazzo e soprattutto alle famiglie un servizio adeguato attraverso personale qualificato. Grazie all'aiuto dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo D'Ercole dal 18 dicembre scorso è possibile usufruire di una struttura rinnovata con un manto sintetico di ultima generazione. Sì, era un'utopia che finalmente diventa realtà, finalmente il comune di Castiglione ci ha dotato di questo splendido impianto, non tanto per noi che siamo degli allenatori o degli istruttori, ma per questi ragazzi che hanno un posto verde, che oggi vuol dire tanto, come vogliamo anche ringraziare tutti i comuni della vallata del Fino che ci hanno ospitato in questi anni e ci hanno messo a disposizione le loro strutture per poter appunto continuare questo sogno chiamato Scuola Calcio. Sicuramente la Scuola Calcio non è solo poi la pratica, ma è anche socialità. Che cosa vuol dire tornare a farlo a distanza di due anni con la pandemia che ha relegato questi bambini a stare dentro casa? La Scuola Calcio per fortuna è tornata e con essa è tornato il divertimento per questi ragazzi, quindi la socialità per questi ragazzi. Una cosa molto importante che va perseguita e sperando che non si blocchi più.